ciao ragazzi siamo di nuovo qui con il nostro bbit per un nuovo tutorial oggi parliamo delle playlist allora il bbit ha due modi per gestire le scalette durante il live un modo è quello tradizionale delle playlist e l'altra modalità è quella che noi chiamiamo show ovvero l'organizzazione di un vero e proprio spettacolo parleremo dello show nel prossimo tutorial oggi vediamo come si organizza e come viene gestita la playlist ma prima di questa cosa qua voglio mostrarvi una funzionalità che verrà inserita nel bbit nel prossimo aggiornamento che è imminente un update del sistema operativo che uscirà tra pochi giorni che include due novità due funzioni nuove la prima è la identificazione la creazione della traccia click in automatico per le backing tracks in formato audio stereo quindi per le backing tracks che magari hanno tutta la parte musicale ma non hanno registrato il click ecco bbit è in grado di generare la traccia click separata dalle due tracce stereo della backing tracks che la genera automaticamente vi faccio vedere come allora innanzitutto trasferiamo la backing tracks che abbiamo qui sul computer la trasferiamo sul bbit è un'operazione molto semplice che il bbit fa in automatico l'abbiamo già collegato tramite cavo di rete eccola la backing tracks è stata trasferita e questa è un brano edito nella schermata di editing abbiamo un nuovo tasto che è questo tasto che è la funzione che genera il il click andiamo a generare il click qui c'è una schermata dove possiamo impostare la modalità di generazione del click in sostanza possiamo definire una battuta di precount in realtà il precount può essere fatto in diversi modi possiamo stabilire di non avere un precount di avere una sola misura di precount due misure di precount oppure una serie di pulsazioni se vogliamo ad esempio mettere tre pulsazioni o sei pulsazioni che ovviamente vanno al ritmo della backing tracks che abbiamo preso in analisi quindi possiamo farlo qui c'è un'altra opzione che è quella che consente di mettere un accento sul primo quarto sulla prima pulsazione della misura musicale e da questa pagina in sostanza noi possiamo generare il click il sistema genera la traccia click tramite un algoritmo che abbiamo studiato un algoritmo di intelligenza artificiale vedete è stata generata questa traccia che può essere anche salvata può essere salvata perché gli algoritmi di intelligenza artificiale come ben sapete non sono perfetti può essere che il click venga bene nel 90 per cento dei casi il click viene bene magari in qualche caso quando ad esempio ci sono delle oscillazioni metronomiche molto forti oppure ci sono delle parti dove non c'è una base ritmica sufficientemente chiara in quelle porzioni magari il click non viene bene quindi si avrà la possibilità di scaricare la traccia e di editarla eventualmente con una do per andare a perfezionare il tutto ecco in questo caso abbiamo generato la traccia click adesso per comodità la mettiamo sulla uscita 2 perché abbiamo collegato in questo momento solo due uscite e a questo punto la base sarà registrata con il click che è ripreso in automatico come sentite click assolutamente preciso qui anche nei punti di vuoto funziona quindi va avanti nel tempo quindi questa è una funzione teniamo molto comoda per tutte quelle situazioni in cui non c'è un click non è presente o non c'è la possibilità di registrarlo ecco quindi abbiamo visto come generare il click in automatico per le backing tracks che che ne fossero sprovviste making tracks stereo quindi wave o mp3 insomma l'importante che abbiano due canali ora vediamo come si costruiscono le playlist allora la playlist tipicamente è una scaletta che noi possiamo comporre con i brani che sono archiviati all'interno del bbit che sono quelli che vediamo qui in questo caso ne abbiamo un certo numero memorizzate all'interno del bbit allora molto semplice andiamo nella parte playlist schiacciamo il tasto di creazione di una nuova playlist gli diamo il titolo in questo caso la chiamiamo test video ecco abbiamo generato la playlist quindi adesso possiamo semplicemente aggiungere dei progetti audio che andremo a selezionare nell'archivio quindi cose che sono i brani che abbiamo nell'archivio e li possiamo mettere secondo un ordine che noi gradiamo in questo modo qua ecco aggiungiamo questi brani alla playlist come vedete qui abbiamo i brani che abbiamo scelto c'è la lunghezza totale della playlist quindi la somma della durata dei vari brani e niente di più quindi in sostanza noi abbiamo in questo modo creato la nostra playlist che poi possiamo anche andare a modificare perché se ad esempio vogliamo cancellare un brano questo qua lo possiamo cancellare con il tasto cancella qui e quindi abbiamo ridotto la playlist a tre brani possiamo dragare un brano in un'altra posizione e cambiare la posizione del brano all'interno della nostra playlist ora queste operazioni che sono molto semplici che sono distribuite su bbit in tempo reale quindi noi in questo momento non dobbiamo fare altro che staccare il bbit e andare a suonare la nostra playlist è pronta tutte queste operazioni possono essere fatte anche sul bbit e possono essere fatte anche durante l'esecuzione live nel senso che chiaramente noi non andiamo in edit su una playlist ma nel momento in cui suoniamo la playlist con il bbit abbiamo la modalità di selezione dei brani che raggiungiamo premendo il tasto enter che anche mentre stiamo suonando ci fa vedere sul display le canzoni della playlist e ci consente di selezionare la canzone successiva o se il bbit è fermo di selezionare la canzone che vogliamo suonare quindi la playlist può essere sia una scaletta di brani che vanno uno dietro l'altro in maniera automatica ma anche un gruppo di brani che poi io vado a selezionare uno a uno durante le mie performance live quindi massima praticità massima semplicità non non ci sono grossi problemi nel gestire una playlist in maniera molto comoda anche dal bbit durante il live tra l'altro c'è una funzione che si chiama autoplay che sostanzialmente cosa fa nel momento in cui noi premiamo autoplay ogni volta che finisce un brano parte quello successivo se invece l'autoplay non è inserito allora ogni volta che finisce un brano il bbit attende il nostro consenso per andare avanti con quello successivo quindi anche in questo senso abbiamo la massima semplicità per gestire la playlist ecco abbiamo creato questa playlist è già automaticamente trasferita sul bbit possiamo scollegare il bbit dal computer e in questo momento diciamo che possiamo essere non live stacchiamo addirittura il cavo di rete qui abbiamo i quattro tasti funzione principali del bbit ossia la library che è il tasto che ci permette di andare nella libreria dei file singoli che siano audio o video perché c'è il tasto media che mi consente di andare a vedere i video quindi abbiamo classificato i file audio quindi i progetti audio e i file video e quindi library mi consente di andare dentro la libreria di scegliere un brano e di suonarlo oppure posso andare nella sezione playlist vedete che adesso c'è già la playlist che abbiamo costruito insieme e decidere di suonare direttamente questa playlist la possiamo caricare o premere play e lei suona vedete qui abbiamo rappresentata l'icona della playlist ecco premendo il tasto enter vado automaticamente a vedere l'elenco della playlist e ho la possibilità di modificare quale sarà la canzone successiva rispetto a quella che sta suonando oppure di saltare la canzone che segue quella che sto suonando quindi massima semplicità tra l'altro la playlist la posso volendo anche se non ho il computer sono in serata voglio costruire una playlist al volo la posso costruire direttamente col bibit in modalità veramente molto molto semplice con i tasti e le varie funzioni che sono disponibili attraverso il pannello della macchina bene per oggi abbiamo finito poi vi racconteremo un'altra modalità di costruire scalette molto interessante con il bibit che è quella come dicevo delle degli show che vi racconterò nel prossimo tutorial buona giornata saluti da m live